Salve a tutti ragazzi sono Zedawillix, oggi sono qui con un ultimo video, un ultimo teaser perché il giorno successivo da quando carico questo video Usciranno le rapine in banca, finalmente! 10 marzo è arrivato ragazzi, mi raccomando state pronti sul mio canale domani Perché cercherò di caricare prima possibile un live delle rapine in banca sul mio canale, ovviamente metterò anche moltissime altre rapine in banca sul mio canale Quindi state pronti, seguitemi per altri aggiornamenti sulla pagina facebook, troverete il link della mia pagina facebook ufficiale Nell'escrizione di questo video e niente ragazzi vi lascio al teaser trailer nominato rapina a mano armata, sottotitolato in italiano, bella!